Eccoci a Scopello. In questo paesaggio fiabesco si stanno girando le riprese per un film della Disney. Ecco, queste sono immagini suggestive. Vedete l'effetto luminoso che si è appena generato sul mare. Vedete l'effetto luminoso che si è appena generato. Lavoro cinematografico fa comunque un certo effetto vedere i faraioni di Scopello, l'area dei faraioni di Scopello, illuminata in questo modo. Grazie. 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 Grazie.